Ciao creatura Io sono Eccati Splendenti e benvenuta, bentornata nel regno di A-S-M-R Premetto, voglio premettere, 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 premettere alcune cose prima di iniziare questo video Allora, cosa andremo a fare in questo video? Andrò a leggere le domande che mi sono state poste da alcune creature del regno di Cosai A-S-M-R Su Instagram, su mia richiesta ho messo un box sulle storie dicendo appunto che avrei fatto un video dove interrogavo le mie rune con le domande delle mie creature fatte in quella storia in quel box domande Per tutti coloro che non credono in queste cose chiedo di non scrivere cose tipo il signor distruggi perché c'è chi crede e chi non crede e tutti 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 nel regno di Cosai hanno il diritto di credere o non credere senza giudicare gli altri perché fanno una cosa diversa da quella che noi facciamo poi questo tipo di cose può essere tranquillamente preso come un gioco o preso sul serio creatura puoi vederlo come un gioco o puoi vederla come un segno del destino sei tu che decidi come prendere questa faccenda voglio dirti che io sarò totalmente onesta nella risposta quindi se dovesse esserci una risposta negativa non prendertela male e non prendertela troppo sul serio perché appunto devi cercare cercare di capire il vero e profondo significato che sta nel messaggio ma non voglio che ci resti troppo male però allo stesso tempo non voglio fingere che la risposta sia diversa perché non ci piace ok quindi io farò una lettura sia onesta e sincera però non restateci troppo male se è negativa ok e non convincetevi troppo che è così perché di solito dalle rune bisogna anche se sembra negativa da comunque uno spunto per risolvere il problema ok c'è sempre un significato nascosto bisogna capirlo pian piano ok detto questo iniziamo volevo dirti anche che se vuoi un set di rune puoi richiedermelo privatamente e te lo posso fare in resina come vuoi tu su instagram se questo genere di video ti piace ti piace e ti rilassa lasciami un like e commenta se vuoi altri video del genere seguimi su instagram e ogni tanto farò una storia con questo box domande al quale tu potrai partecipare se vuoi fare la tua domanda ok su instagram mi trovi mi trovi con il nome actesplendente mi sembra di aver detto tutto lo faccio anonimo e tu che mi hai fatto quella domanda sai ok perché su instagram se avessi risposto alle storie sarebbe stato anonimo e quindi meglio così se invece nel prossimo video volete essere nominati allora bisogna deciderlo prima ok ok qui non si 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 ecco qui ci sono sono le rune? Andiamo con la prima domanda, se la risposta non sarà, io di solito pesco una sola runa, ma se la risposta non è molto chiara potrei pescarne più di una per approfondire di più la faccenda, ok? La prima domanda è se la persona che considero la mia anima gemella lo è, questa persona vuole sapere se la persona che lei considera la sua anima gemella, lo è, è la sua anima gemella, voglio questo, è uscita una cosa, cioè, allora mi è uscita la runa bianca e mi è uscita, la runa bianca è questa, è quella senza il simbolo, mi è uscita dritta, il significato è, cioè, ci sta perfettamente con la domanda quindi non starò a pescarne un'altra, la runa bianca in questo caso vuol dire che il fatto è favorevole e devi seguire il tuo istinto, quindi mi sembra chiaro che tu sai, tu sai prossima domanda, quanto schifo farà la mia vita? questa domanda è un po' difficile da leggere nelle rune, perché quanto non è che ho pescato domani devo pescare un'altra allora le rune dicono che devi meditare per capire alcune cose, probabilmente della tua vita, o come migliorarla, ma fin lì ci potevano arrivare tutti, poi mi dice che ci sarà un incontro con una persona positiva dice che devi metterti in sintonia con l'universo, ma già dalla domanda potevamo arrivarci anche noi, giusto, ok è banale, ma devi capire che cosa stai sbagliando, grazie al cavolo giusto mi dirai, ma probabilmente ti circondi solo di persone negative, può essere, può essere questo anche a me è successo per un periodo e poi incontrando e trovando, selezionando meglio le mie frequentazioni diciamo, le mie amicizie, è migliorato tutto, forse ti circondi di persone sbagliate, può essere non lo so, riflettici allora, prossima domanda a fine agosto ho fatto la fase finale di un concorso iniziato ad aprile, andrà bene o male? questo concorso andrà bene o andrà male? scopriamolo insieme allora, qui mi dice qui mi dice che andrà bene perché è per la realizzazione dei sogni quindi direi proprio di sì che andrà bene questa è stata una lettura molto più easy prossima domanda ora, l'appolo qui per quel riguardo il covid finirà presto perché sprecate le domande per queste cose fate le domande per voi stessi comunque andiamo a vedere lo stesso ora già che abbiamo trovato la runa delle entità invisibili la dice lunga visto che il covid è un'entità invisibile giusto? i virus non si vedono ad occhio come i microorganismi non si vedono ad occhio umano quindi già stiamo parlando della cosa giusta poi sembrano purtroppo coincidenze è una runa di protezione anche quindi la vedo positiva no? poi la risposta è sì raggiungerò mai la serenità della domanda andiamo a vedere 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 ci siamo allineati guardate mi sto pescando tutte rune diverse a tutte rune diverse mi sto triggerando tutte rune diverse a mi fa un sacco deletto a te tutte rune diverse tutte rune diverse tutte rune diverse proprio qui lo sento allora abbiamo pescato la runa della perfezione già mi ispira dice che è favorevole a questa cosa e questo è il talismano per avere protezione e vita serena quindi coincidenza io non credo io la vedo molto positiva come risposta vorrei sapere del mio futuro attualmente molto molto incerto qualcuno di tutti devo aprire per leggere tutta la risposta alla domanda grazie ce l'hai prego allora vorrei sapere del mio futuro attualmente molto molto incerto vediamo che cosa dicono le rune a proposito del tuo futuro del tuo futuro io direi di pescarne più di una perché la domanda mi sembra molto complessa ok ne pescherò tre ok allora ho trovato la runa della ricchezza mentre la ricca probabilmente devi rifletterci subito eh sì qua mi dice qua mi dice benessere materiale beh sempre meglio che niente cavolo voglio dire magari tu cercavi un benessere più spirituale però al momento abbiamo il messaggio che avrai benessere materiale ricchezza buono non mi sembra male non mi sembra per niente male arriverà il giorno in cui imparerò a chiedere aiuto vediamo vediamo se arriverà il giorno o in che modo allora mi è uscita questa runa che dice è meglio fermarsi aspettare un momento migliore la risposta potrebbe essere no ma questa runa è il talismano per fare la cosa giusta al momento giusto e per avere la volontà di farlo quindi probabilmente potrebbe succedere questa cosa ma probabilmente ora tu non lo stai facendo perché non è il momento giusto per farlo io la vedo così quindi potrebbe essere sì un giorno forse lo troverai il coraggio quello che sarà il giorno in cui imparerai probabilmente un giorno lo imparerai a farlo già che sai che devi farlo è già tanto perché se lo chiedi quando lo imparerò probabilmente adesso non è il momento giusto per chiedere aiuto e lo imparerai cioè già che tu ne sei consapevole ha senso no cioè è già tanto perché magari uno non sa non sa che deve imparare questa cosa quindi come fa a impararla se già non sa che deve farlo quindi probabilmente adesso non è il momento giusto però si già sai che devi impararlo devi imparare a farlo sei già a buon punto da mio punto di vista poi vedete nei commenti se qualcun altro vuole provare a interpretare un'altra cosa lo dica poi chi sta ascoltando questa domanda vivrà beh esco un attimo perché devo aprirla per leggerla bene chi sta ascoltando questa domanda vivrà un periodo sereno qua le creature si fanno anche le domande per tutti in generale mi piace per te creatura che stai ascoltando questa domanda vivrai un periodo sereno beh mi farebbe da dire non può piovere per sempre però allora intanto la risposta è sì perché la runa è dritta ma andiamo a vedere che cosa significa questa runa abbiamo pescato la runa dell'intuizione c'è un cane che appaia fuori con superamento di esami e avanzamento di carriera cioè c'è andrà di sedere ed è un talismano per gli artisti io sto ascoltando questa domanda quindi mi interessa e la questione è e è fa un po' ridere perché al momento nella quale sto ascoltando ci sono solo io nel video cioè adesso solo io sto ascoltando la domanda che sto autofacendo tra l'altro e mi fa ridere che sia uscita questa cosa perché sembra parli di me però vabbè va a farla in live probabilmente con più persone in ascolto vabbè e partirò entro il 2021 per andare non si sa dove ma vediamo vediamo se questa creatura partirà entro il 2021 la risposta è sì ma andiamo a vedere la runa perché sono curiosa adesso sono troppe troppi colpi di scena abbiamo trovato la runa del sole degli elfi luminosi mi promette già bene io penso mi dice successi e anche realizzazioni sentimentali io non so se partirai con qualcuno o da sola e mi dice che partirai per migliorare la tua qualità della vita non so comunque sì chiede se sto facendo le giuste scelte nella mia vita la risposta è sì ma andiamo a vedere la runa allora questa è la runa per avere il coraggio di decidere e dell'indipendenza ok superamento di ogni difficoltà quindi credo che uno sia a pieni voti troverò l'amore che non è specificato quale tipo d'amore perché l'amore è in tante cose quindi vediamo troverà l'amore allora mi dice confusione mentale e problemi in famiglia forse stiamo parlando di un tipo d'amore diverso da quello che intendi tu probabilmente a meno che la tua famiglia non ti stia ostacolando in qualche modo per trovare l'amore non lo so potrebbe essere mi dice questo quindi probabilmente prima devi sistemare alcune cose in famiglia e poi troverai l'amore dopo tutto questo periodo di rinascita troverò qualcuno che mi vuole bene davvero ma ci siamo già noi le creature del regno di di rinascita e la risposta è sì ah è sì e ho fatto ah perché mi sono scontrata con il microfono ma io andrei ad approfondire mi dice che ci sarà un incontro con una persona positiva è proprio un sì pieno direi questo è un sì pieno che ha a che fare col tuo karma probabilmente in questo periodo di rinascita hai fatto tanto del bene quindi te ne tornerai indietro altrettanto devo aprire anche questo perché ho messo giù lungo non sfiderò più il destino chiedendo le tue rune ci hanno zeggato l'altra volta ok perfetto riuscirò a realizzare il sogno di avere il lavoro che voglio e andarmene dall'Italia vediamo se riuscirà a realizzare il suo sogno e andarsene dall'Italia allora è positiva però andiamo a vedere abbiamo trovato la runa degli incantesimi cosa vorrà dirci dovrei fare un incantesimo non scherz allora è una runa legata alla realizzazione di progetti però sportivi non so se c'entra io lo dico e per la vittoria beh vittoria mi sembra una cosa positiva direi di sì che cosa mi riserverà il futuro bs di adoro grazie corizzino che cosa mi riserverà il futuro anche qua voglio pescarne di più perché è una domanda mi pesco intanto due allora 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 le sto guardando vedete qua guardare in giro perché quando penso io guardo in giro guardo giù guardo vabbè allora voglio concentrare non riesco a guardarmi mi distrago se mi guardo da sola devo guardare in giro allora mi dice che devi metterti in sintonia con l'energia dell'universo per realizzazioni sentimentali e ottenere successo e migliorare la qualità della tua vita questo è quello che mi ha detto non che vuol dire tutto e vuol dire niente peschiamone un altro ecco di nuovo questo questo karma è uscita la runa del karma e delle fate mi sembra culla mi dice rinnovamento forza d'animo altruismo coraggio non so vedi tu che cosa si può trarre da queste informazioni non so aiutatemi con i commenti prossima domanda riuscirò a no ne ho soltata una che direzione prendere vediamo allora abbiamo pescato la runa del focolare domestico quindi la direzione della famiglia io penso c'è qualcosa che la direzione c'è c'è nascita di bambini è a che fare con la famiglia il focolare domestico parla proprio di casa famiglia e bambini quindi è proprio una runa mirata a questo poi vedi tu come interpretarlo perché non so non so che cosa ti vrulla per la testa devi mettere su famiglia o devi pensare alla tua famiglia fammi sapere poi in un commento perché sono curiosa se ha senso per te però è stata una risposta molto molto precisa quindi riuscirò a congelare il mio cuore aspetta devo aprire il messaggio perché è lungo riuscirò a congelare il mio cuore di fronte a questa amicizia tossica ok congelare il cuore mi sembra una domanda molto particolare la risposta è sì ma vediamo che cosa ci dicono la runa dei giganti dice riflettere prima di agire non c'era bisogno di una runa per capire che bisogna riflettere prima di agire però dice capire le situazioni e individuare i nemici ne voglio pescare un'altra per chiarirmi un po' le idee allora la risposta è sì ce la farai però devi non ti devi fermare ai pensieri negativi probabilmente just do it ci stai pensando troppo ci stai pensando troppo questa è la risposta quindi è sì però ci stai pensando troppo cioè fallo e basta non stai a dire congelo il cuore bla 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 fallo 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 non fallo bene fallo tweet ok e volevo vederci chiaro in questa situazione perché mi diceva sì ma c'era un incongio c'era qualcosa era un sì ma non così chiaro ok riuscirò a fare ciò che sogno vediamo realizzare progetti legati a gare sportive addirittura mi dice questo però direi di sì perché è per la vittoria quindi sì se è un sogno sportivo che fare con lo sport non ho niente però la risposta è sì riuscirò a superare almeno un esame entro ottobre vediamo ho pescato i due insieme vediamo mi dice lo so che può essere però la risposta è no ma dice che sei mi dice proprio stasi nei progetti cioè non può essere una coincidenza che mi è uscito stasi nei progetti e mi esce mancanza di aiuti e ostacoli questo mi dice quindi direi che è un no a meno che tu non riesca a trovare un aiuto e a superare questi ostacoli però adesso sai che ci sono quindi sei già preparata l'amore arriverà presto vediamo se arriverà presto quest'amore amore e corrisposto mi dice amore e corrisposto quindi io direi di sì l'ultima domanda è c'è la possibilità che io abbia un bambino questa è una domanda molto mi viene da piangere per la paura di ricevere una risposta negativa perché ci tengo a questa persona però io risponderò in modo onesto non voglio farmi influenzare dalla conoscenza di questa persona che mi ha fatto la domanda e dalla mia voglia di dirti sì perché te lo meriti ok però non voglio farmi influenzare ne ho pescate ben due sarebbe stato bello pescare la runa del fogolare ma non ho pescato quella però vediamo intanto sono positive quindi è già qualcosa però voglio andare a vedere intanto mi dice realizzare progetti e un bambino mi sembra un progetto ne vuoi pescare un'altra ho pescato la runa della protezione interessante mi dice situazioni che negative diventano positive aiuti buoni consigli ti serve qualche consiglio forse per riuscire ad avere un bambino scusa il taglio ma c'è la vicina che fa rumore e quindi come potremmo interpretare questa cosa mi dice di sì però c'è qualcosa che c'è un aiuto che deve o deve arrivarti o qualche consiglio che devi magari non lo so ma sicuramente sarei andato da qualche medico non lo so se non l'hai fatto io ti consiglio di farlo ok bene era l'ultima la più importante forse per me perché è una domanda veramente importante dal mio punto di vista spero di esserti stata utile creatura di averti rilassata soprattutto io questo video è lunghissimo non so se l'ho diviso in due parti ma penso di no e ti auguro buonanotte buon relax lasciami un like se ancora sei sveglia e se non l'hai fatto prima iscriviti al mio canale seguimi su instagram se vuoi appunto altre letture del genere io ci metto tutta la mia buona volontà e ovviamente se non ci credi non importa vi dirò come un video rilassante o come un gioco se ci credi mi raccomando mi raccomando se già ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti